Vediamo come si fa ad animare un testo in modo che le lettere entrino una per volta. Abbiamo qui il nostro testo. Cintriamolo un po' così si vede bene. Ora per fare un'animazione su questo testo bisogna andare ad aggiungergli un animatore. In questo caso, visto che vogliamo fare entrare le lettere una per volta, useremo l'opacità. E qui abbiamo un selettore di intervallo e un'opacità. Andremo ad agire sul selettore dell'inizio. Vediamo che cosa succede se diminuiamo l'opacità. La mettiamo a zero. In questo modo vediamo che laddove il selettore è attivo la nostra opacità è a zero. Per questo motivo se io scelgo un primo keyframe e utilizzo lo stopwatch dell'inizio, mi sposto avanti nel tempo e da zero lo riporto a 100, l'animazione che ho ottenuto è esattamente questa. Che è esattamente l'animazione per carattere classica di entrata. Grazie. Grazie.